Questa mattina vorrei provare a parlare di animicità. Voi vi state accorgendo di quanto siamo evoluti? Pensate a un po' di anni fa, quando la gente pensava al lavoro nei campi, pensava a mantenere una famiglia numerosa, pensava a sopravvivere. Ebbene, oggi le cose non stanno più così, oggi si riesce ad essere più sereni e a pensare alle profondità dell'anima. Le profondità dell'anima. Sono arrivati bambini che hanno delle consapevolezze enormi e ce le stanno portando, ci stanno dicendo guardate che le cose non stanno così. Guardate che gli animali vanno salvaguardati. Guardate che il mondo in cui viviamo è la nostra casa più grande. se non lo teniamo pulito, se non facciamo in modo che possa diventare meraviglioso. Sarà sempre un mondo in cui dovremo combattere per esistere. Eh sì, oggi lo scontro epico è proprio fra coloro che fino all'altro ieri, anche fino a ieri, hanno tenuto nelle mani saldamente il potere con la forza dell'inganno, con le religioni, con la scienza, hanno tenuto saldamente nelle loro mani il potere contro chi si sta rendendo conto e sta aprendo gli occhi con nuove consapevolezze. Questa è la realtà animica. Le anime sono antiche e portano consapevolezza. La portano oggi più di ieri perché è un processo evolutivo. Salto quantico vs transumanesimo. Vi invito a vedere questo video che ho pubblicato qualche anno fa su YouTube. se volete cercare di capire che cosa sta succedendo è una questione di potere perché un passaggio di potere in un cambio di paradigma grande come questo implica che chi ha il potere sta lottando per cercare di tenerselo mentre invece noi vogliamo la libertà.